Il frutteto pedonabile e sostenibile è un frutteto in cui tutte le operazioni culturali vengono eseguite da terra quindi l'altezza massima delle piante è sui 2,20 metri e quindi dalle operazioni di dirado manuale fino alla raccolta, alla potatura non hanno bisogno né di scale né di carri raccolta. Il vantaggio chiaramente è di tipo sicurezza in quanto l'operatore non ha bisogno di arrampicarsi su qualsiasi attrezzo per raccogliere le mele ma molto importante è il vantaggio dal punto di vista per esempio della riduzione della deriva degli antiparassitari perché trattare per esempio questi fruttetti pedonabili si può fare ad esempio senza le ventole quindi con molto meno movimentazione di prodotto nelle zone circostanti il frutteto ecco perché il frutteto pedonabile è particolarmente indicato per le zone periurbane.